Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione! In questa lezione vediamo come fare un pane senza impastatrice, quindi senza planetaria, senza impastatrice. Questa lezione è per te che non hai un'impastatrice e vuoi fare il pane a mano magari. Ciotola, questa qua si prende una classica ciotola e possiamo fare il pane anche senza impastatrice. Quello che mi interessa darti è la tecnica, ok? Quindi la tecnica per fare un buon pane. Poi noi useremo la tecnica a frigo forno, cioè facciamo il pane, lo mettiamo nel cestino e lo cuociamo domani. Quindi tecnica a frigo forno. Anche lì il cestino, in questo caso se non ce l'hai, può usare uno stampo da plum cake con dentro un torcione. Ma va bene qualunque contenitore, basta mettere un torcione dentro. Quindi veramente il pane si può fare veramente poche quantità anche a mano. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale. Clicca sulla campanellina per essere sempre aggiornato sui contenuti che pubblico. E ricordati che nel link in descrizione trovi il link per parlare con la mia assistenza. Iscriverti direttamente in Academy. Abbiamo un Academy online di pasticceria con vari videocorsi di pasticceria, partendo dalle basi, fine lievitati, le torte classiche moderne, la biscotteria, le bilanciature e il nuovo corso del salato, pasticceria salata e panificazione del pasticcere. Ad ogni modo in descrizione trovi tutto, trovi anche le testimonianze dei nostri ormai migliaia di studenti da tutto il mondo. Che dire, io spero di vederti in Academy, è tutto in descrizione, contatta l'assistenza, ma continuiamo con il nostro video. Allora, per questa tipologia di pane ho scelto una farina 0,280 di W. Ma sappiate che la farina potete mettere quella che vi piace, diciamo. Ovviamente se usate un integrale, una tipo 2, tipo 1, forse l'idratazione un pochettino dovete aumentarla un po'. Però neanche più di tanto, perché comunque questa è una, circa un 70% di idratazione, un 72%, quindi abbiamo una buona quantità d'acqua e quindi anche qui, se volete sostituire una piccola quota di questa farina con la farina che vi piace di più, potete fare il pane che vi piace a voi. Quello che mi interessa è darvi la tecnica, poi voi fate un po' i gusti che vi piacciono. Farina 0,280 W, mettiamo la prima parte di acqua come indicato in ricetta e il licolì. Allora, il licolì, come sempre facciamo un piccolo recap, anche se ci sarebbe la lezione di base, anche se c'è la lezione di base. Allora, ho rinfrescato il licolì, l'ho messo qui che era 400. Il licolì si rinfresca classicamente 1,1,1, cioè 1 di licolì, 1 di acqua, 1 di farina. Se il licolì, come in questo caso, viene da frigo, acqua calda, 35-40 gradi. 1 di licolì, 1 di acqua, 1 di farina, miscelate e piano piano lui lievita. Diciamo che raddoppia dalle 3 alle 4 ore. Se volete un pane un po' meno acido, un pane meno forte, fate il rinfresco 1,2,2, cioè 1 di licolì, 2 di acqua, 35-40 gradi se viene da frigo, 2 di farina. Sempre ho usato una 2,80 e W in questo caso, miscelate e lui sviluppa. Quindi potete fare 1,1,1 o 1,2,2. 1,2,2 è un licolì meno forte. Il licolì si può prendere da una volta e mezza, massimo a raddoppio. Quindi potete prendere il licolì a una volta e mezza o a raddoppio, o una volta e sette, o una volta e otto. Sappiate che il licolì a una volta e mezza è un licolì giovane, quindi darà meno gusto forte al pane. Un licolì a raddoppio e un licolì a maturazione darà più gusto al pane. Quindi dovete anche scegliere un po' voi come vi piace il, diciamo, il pane. C'è chi piace un bel gusto acidulato, diciamo sono più i nordici che piacciono questi tipi di pane, però potete scegliere voi un pochettino come, quanto prendere il licolì e come rinfrescarlo. Allora, il licolì, mi raccomando, per chi non è esperto, bolle in superficie, colore bianco tendente all'ocra. Quando è pronto a maturazione lo assaggiate. E sa di yogurt. Proprio tipo yogurt, anzi anche un po' dolcino. Cioè, non è acido forte, mi raccomando, no acido. No liquido, vedi, bello spumoso. Bianco, tendente all'ocra, fa le bolle. Sa di yogurt. Queste sono le caratteristiche. Acidulo sì, ma anche qualche nota dolce. Quindi, acido lattico, che dà la conservazione al pane, che dà questo gusto, no? Perché è l'acido lattico che dà il gusto caratteristico proprio del pane. Allora, il licolì in questo caso siamo 400, 600, 800, siamo a raddoppio. Quindi, ormai siamo arrivati a raddoppio, tempo che preparavamo le cose, usiamo il licolì a raddoppio, ok? Però potete prenderlo un po' prima, anche se volete un licolì un po' più giovane. Il licolì potete rinfrescarlo con una frusta, semplicemente, con un cucchiaio, va bene. Sappiate che il licolì si può portare anche in cordatura, però questa è la lezione senza impastatrice, quindi il licolì lo rinfrescate semplicemente con una frusta, quindi acqua, farina, licolì, miscelate e lasciate sviluppare. Ovviamente io che ho più lezioni da fare in giornata, questo l'ho incordato. Incordare il licolì che cosa vuol dire? Vuol dire metto la massima velocità in planetaria e incordarlo, no? Come un impasto super idratato, in planetaria con foglia. Ovviamente questa è la lezione, senza impastatrice, senza planetaria, quindi tu lo miscelerai semplicemente con una frusta. Cosa cambia tra miscelarlo con una frusta o incordatura? Dalla mia esperienza personale a incordatura miglioro un po', gestisco meglio lo sviluppo, lo riesco a controllare meglio e abbiamo anche una miglior propulsione in forno. Ma comunque il pane ti viene comunque anche se lo frusti semplicemente o se lo misceli lì con l'acqua e lo rinfreschi con un cucchiaio o con una frusta, ti viene comunque, quindi non ti preoccupare, ti viene comunque. Ovviamente ci sono tante sfumature che se uno le sa le può attuare, ma questa è la lezione, fare tutto senza impastatrice, quindi lo rinfrescate a mano e viene lo stesso, sviluppa. Poi una volta che l'icoli, in questo caso raddoppio, quindi noi facciamo prima cosa l'autolisi, mettiamo la farina, l'acqua e l'icoli, misceliamo senza impastare tanto, quando si è assorbita tutta l'acqua lasciamo lì per un'ora. Passata un'ora, prendiamo il sale della ricetta, la seconda parte di acqua che trovate, mettete il sale e la seconda parte di acqua, iniziamo a impastare con le mani delicatamente per circa dieci minuti, alternando fasi di lavoro a fasi di riposo. Una volta che abbiamo fatto la nostra pagnotta, iniziamo a dargli circa tre ore di riposo, circa, dando quattro pieghe, quindi ogni 45 minuti gli diamo una piega, in questo caso diamo delle pieghe di rinforzo, delle pieghe non semplici in una ciotola, ma delle proprio delle pieghe, vi farò vedere come per rinforzare, che in inglese si chiamano le folding, cioè proprio sono pieghe di rinforzo, perché in questo caso, non avendo l'impastatrice, dobbiamo dargli struttura all'impasto, quindi bisogna dare delle pieghe, e le pieghe vi farò vedere, ma sono delle semplici pieghe, quindi una volta fatta l'autolisi, aspettiamo un'ora, poi mettiamo l'acqua con il sale, finiamo l'impasto, dieci minuti lo lavoriamo, ma sarà ancora grezzo, poi lo facciamo riposare l'impasto per circa tre ore, dando delle pieghe ogni 45 minuti, quindi diamo quattro pieghe in tre ore, lui circa avrà raddoppiato il suo volume, però se non l'ha raddoppiato aspettiamo un attimino, poi diamo la preforma, e poi diamo la formatura, mettiamo il pane nel cestino, domani mattina tagliamo e cuociamo, quindi questo è per farlo tutto in una semplice ciotola. A questo punto possiamo partire con l'autolisi, ok, quindi partiamo, allora l'acqua importante, l'acqua deve essere d'inverno, probabilmente la mettete dentro sui 26 gradi, anche 27, comunque deve essere più tiepida, d'estate l'acqua può essere un po' più fresca, perché è il lievito madre, molto sensibile alle temperature, diciamo che tutti i pani a lievitazione naturale, devono essere circa 25, 26 gradi, se ha qualcosa di più va bene, ma non di meno, perché sennò non riesce a partire la fermentazione. Poi vedete il licoli, bello spumoso, mi raccomando non liquido, deve essere bello spumoso in questo caso, lo pesate, mettete quindi il licoli nella bacinella, mi raccomando il licoli, se è molto liquido, vuol dire che è acido, è troppo acido, deve essere spumoso, quindi, licoli, mettete l'acqua, l'acqua, la temperatura è importante, guardate che il lievito madre è sensibile alle temperature, se state dai 25, massimo 27, 28 gradi, lui parte, se state a 20 gradi, o mettete l'acqua ghiacciata, qui bloccate tutta la fermentazione, quindi, magari d'inverno, acqua tiepida, d'estate acqua fresca, ok? sono dei parametri di massima, però è per farvi capire i concetti, che il lievito madre è molto molto sensibile alle temperature, più del lievito di birra, il lievito di birra, bene o male, se ne mettete tanto, sviluppa anche a temperature un po' più fredde, diciamo, mentre invece il lievito madre è molto più delicato, ok? Una volta che avete miscelato l'acqua con il licoli, in questo modo, mettete la farina. Ora, l'autolisi di solito si fa senza il licoli dentro, ma siccome questa è una video lezione, per semplificare il tutto, ve la faccio facile, ok? Quindi, il licoli, vedete questa schiuma? Questa qua è proprio, diciamo, l'acidità dell'icoli che si disperde proprio nell'acqua, Miscelate quindi semplicemente, in questo modo qua, senza lavorare troppo, dobbiamo solo incorporare l'acqua alla farina e basta. Una volta che avete impastato in maniera molto grossolana, ok? Adesso vi faccio vedere come deve essere, si deve assorbire semplicemente la farina, ci fermiamo e basta. E questo è l'autolisi, che generalmente l'autolisi si fa senza il licoli dentro, ma come vi ho detto, io sto cercando di semplificarvi la vita, in modo tale da poter fare un pane, che comunque anche saltando qualche passaggio tecnico, vi viene comunque buono, ok? poi a questo punto togliete dalla vostra spatola, quindi la farina, in eccesso col suo impastino, e andate a pulire bene la ciotola, in questo modo, in modo tale che non si secchi. Però vedete che avete preso, praticamente abbiamo preso tutta la farina, no? non c'è più farina in giro, e questo è esattamente quello che bisogna fare. Andate a pulire bene i bordi in questo modo, per non far seccare poi l'impasto, ok? Dategli in questo modo una leggera impastata, ma proprio veloce, Pulite bene i bordi, ok? Siamo a posto. Adesso guardate l'impasto com'è, ok? Vedete? Si sfalda tutto, no? Non si... Da questo impasto dite, ma cosa ci facciamo con questo impasto qua? Ok? Voi fidatevi, adesso lo lasciate qui per un'ora, o con un panno sopra umido, senza che tocchi la pasta, oppure mettiamo la pellicola, e per osmosi si formerà già glutine, perché la farina assorbirà l'acqua. Ricordatevi che questa si chiama autolisi, serve per assorbire meglio i liquidi, attivare gli enzimi, rigonfiare gli amidi, e darà anche un maggiore sviluppo poi in forno, eh? Quindi, vado a mettere la pellicola. Allora, come vi ho detto, io metto la pellicola perché sono pratico così, ma voi regolatevi sempre anche... cioè, va bene anche un torcione, eh? Io, bucate un po' perché deve respirare la pasta. Adesso, mettete il timer un'ora, e ci vediamo fra 60 minuti, e l'impasto sarà già molto più estensibile. Ci vediamo fra 60 minuti. Ok, perfetto. È passata un'ora, la nostra autolisi è terminata, andiamo a togliere la pellicola, e adesso l'impasto, mi bagno leggermente le mani per non far appiccicare, e se adesso vi faccio dell'impasto, vedete, per osmosi si è già formato un po' il glutine, cioè, ha assorbito bene l'acqua, la farina, vedete, e già, per osmosi, un po' di elasticità, un po' di glutine, come se l'avesse già formato. Questa è l'autolisi, quindi ci permette di lavorare con estrema facilità anche senza impastatrice. A questo punto facciamo una cosa. Mettiamo, quindi, il sale sopra così, mettiamo l'acqua, non tutta, giusto un pochettino, per far sciogliere il sale. Prima premete in questo modo, in centro, bene bene nei bordi, in questo modo qua, in modo tale che si sciolga bene il sale nell'impasto, ok? Poi, una volta che avete premuto bene, iniziamo a dare le pieghe in ciotola dentro, per formare l'impasto. Quindi, mi raccomando, lavorate bene, in questo modo. Poi, date le pieghe così verso l'interno, vedete, prendete la pasta, la spostate verso l'interno, in questo modo qua. Questa fase durerà dieci minuti, cioè alterniamo delle fasi di lavoro, come questa, a delle fasi di riposo. In questo modo, stiamo dando forza all'impasto. Mettiamo ancora ulteriore acqua, non tutta, un pochettino, facciamo assorbire. Quando iniziate a sentire che l'impasto diventa troppo tenace, non accanitevi, vi fermate due o tre minuti, e poi ripartite, ok? Quindi, in questo caso, possiamo ancora andare avanti, magari ne facciamo un'altra in ciotola. Mettiamo ancora l'acqua, in questo modo qua. Impastate, in questo modo va benissimo. Diamo un altro giro di pieghe, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, portate verso il centro. Ecco, a questo punto, vedete, la massa inizia a diventare un po' ostica da lavorare. E allora, ci fermiamo, lasciamo che questo lavoro agisca, riprendiamo fra circa due o tre minuti, tempo che si assorbe quest'acqua, si rilassa la pasta, mettiamo ancora l'ulteriore acqua e impastiamo. Il tutto dura circa dieci minuti, ok? Quindi aspettiamo due o tre minuti. Ok, sono passati giusto tre minuti. Cosa facciamo? Mettiamo tutta l'acqua ed andiamo a fare un altro giro di ciotola. Vedete che la pasta si è già rilassata, bastano pochi minuti. Non bisogna accanirsi quando la pasta è tesa, perché tanto non serve a nulla, non riusciamo a lavorarla. Quindi aspettiamo sempre che lei si rilassi. In questo modo qua, diamo un bel giro di ciotola. Ok, se vedete l'impasto per osmosi guardate si sta già formando. Lo vedete com'è bello liscio? Perfetto. Basta. Adesso ci fermiamo, diamo un pochettino di lavoro in questo modo qua così. Ok, ci fermiamo altri tre minuti e poi lo rovesciamo sul tavolo e iniziamo a dare la prima preforma. Ok, perfetto. Sono passati altri tre minuti, l'impasto praticamente si è fatto da solo, vedete? A questo punto un pochettino di farina. Andiamo a prendere l'impasto in questo modo. Allora, l'impasto vedete, non dico che è già formato perché non è vero, però abbiamo già un impasto che per osmosi si è formato. Lo giriamo qui sul tavolo. a questo punto diamo una leggera forma, una pirlata si dice, no? Vedete, formiamo come una palla in questo modo. Una volta che abbiamo formato come una palla lasciate riposare l'impasto per dieci minuti e poi gli diamo la prima piega. Tra dieci minuti ci rivediamo che diamo la prima piega. Perfetto, sono passati dieci minuti, vedete la pasta si è un po' rilassata. In questo momento non vi preoccupate se la pasta non è diciamo ben formata eccetera, è normale. Gli diamo quindi la prima piega, quindi capovolgete la pasta, dare la prima piega vuol dire, questo qua è per un uso casalingo eh, diciamo, si chiamano folding in inglese. Praticamente allargate un pochettino la pasta in questo modo, poi chiudete un lembo in questa maniera qua, chiudete l'altro lembo in questa maniera qua, poi ci date una piega così, togliete l'eccesso di farina, chiudete, girate, vedete, abbiamo dato forza all'impasto. Date un'altra bella pirlatura in questo modo, ok? facendo come una palla, no? E già vedete che l'impasto ha preso forza, è diventato più liscio e siamo quindi pronti per farlo riposare 45 minuti e poi diamo un'altra piega, quindi per tre ore una piega ogni 45 minuti, totale quattro pieghe. Ci vediamo fra 45 minuti. Ok, perfetto, sono passati 45 minuti, vedete, l'impasto già inizia a crescere, vuol dire che c'è una bella fermentazione, ricordatevi che stiamo facendo questo processo che qui ci sono circa 25 gradi, eh, quindi diciamo lievito cammina. Mettete un po' di farina e diamo un'altra piega. Semplicemente allargate un po' l'impasto, in questo caso non bisogna massacrarlo, perché le bolle d'aria se le teniamo è meglio, ok? Poi diamo una piega, quindi uno, due, tre e quattro. Arrivati a questo punto formiamo una palla e l'impasto se vedete diventa sempre più come ce lo ricordiamo noi diciamo come impastato e un'impastatrice sempre più liscio tende a fare le bolle e diventa proprio una palla sempre più performante, no? Un impasto sempre più performante. A questo punto rimettiamo in ciotola un po' di farina rimettiamo sopra il torcione aspettiamo 45 minuti e diamo un'altra piega. Ci vediamo fra 45 minuti. Eccoci qua, sono passati 45 minuti, vedete l'impasto è ancora cresciuto, calcolate che noi lo dobbiamo portare al raddoppio, quindi è giusto che continui a crescere. gli diamo però un'altra piega senza però massacrarlo, eh? Gli diamo delle pieghe senza però massacrarlo. Quindi giù l'impasto, vedete l'impasto inizia a essere abbastanza formato, bisogna essere sempre più delicati in queste pieghe perché ovviamente stiamo trattenendo le bolle, no? Quindi semplicemente lo allargate un po', gli date un'altra piega in questo modo, un'altra piega ancora così senza mai massacrarlo troppo, un'altra ancora, andiamo a girare e abbiamo formato il nostro impasto. Se vedete continua a crescere, in questo modo stimoliamo la fermentazione e diamo sempre più forza, vedete, all'impasto, sempre più forza all'impasto. A questo punto un po' di farina qui prendiamo il nostro impasto lo rimettiamo nella ciotola copriamo con un cannovaccio in questo modo e ci rivediamo fra 45 minuti che diamo un'altra piega. Ci vediamo fra 45 minuti. Ok, perfetto. Siamo all'ultima piega quindi vedete l'impasto ha quasi duplicato quindi ormai ci siamo. andiamo a fare quindi l'ultima piega allora bisogna stare attenti a non sgonfiare l'impasto vedete com'è bello ricco di bolle no? Non bisogna distruggerlo quindi mettiamo un po' di farina ma poca allarghiamo leggermente l'impasto senza sgonfiarlo e gli diamo l'ultima piega quindi in questo modo qua uno qui fate molta attenzione a non distruggerlo in questo modo qua due e chiudete in questo modo ok? Se è molto ricco di bolle chiudetelo anche in questo modo che va benissimo ok? A questo punto vedete l'impasto è bello gonfio ricco di bolle liscio lo mettiamo nella bulla e siamo pronti per la preforma e la formatura lasciamo riposare quindi l'impasto per circa 15-30 minuti appena si rilassa facciamo la preforma e la formatura finale ci vediamo quindi fra 30 minuti circa ok perfetto è passato la nostra mezz'oretta vedete l'impasto praticamente ha duplicato quindi siamo pronti per fare la preforma e poi la formatura finale ovviamente io sto facendo un pane solo quindi questo a parte serve appunto per tagliare se volete fare due pani tre pani o fate tanto impasto lo tagliate e a ognuno gli date una preforma facendo semplicemente un pane in questo caso la preforma praticamente è semplicemente dello stesso quindi semplicemente una preforma se ne fate tanti dovete dargli semplicemente una forma rotonda in questo modo ok gli date una forma in questo modo qua ce lo tirate un po' per dargli una forma un po' più diciamo strutturata adesso 15 minuti di riposo e poi formatura finale del nostro pane ci vediamo fra 15 minuti ok sono passati 15 minuti allora io metterò il pane in questi basket in questi cestini se non ce li avete va bene un contenitore qualunque anche uno stampo da plum cake magari ci mettete il torcione qui dentro e potete fare il pane anche dentro uno stampo da plum cake allora mettete farina e semola questo è 50% di farina 50% di semola circa perché la semola fa staccare bene il pane e la farina ci dà un po' il colore bianco che si attaccherà al pane siate abbondanti perché se domani non si stacca il pane domani mattina non sarà una bella mattinata quindi staccate mettete bene farina andiamo a vedere l'impasto l'impasto si è rilassato ok ecco si è rilassato però non è proprio rilassatissimo questa fase può durare 15 anche 30 minuti l'importante è che vedete che l'impasto si rilassa un po' si deve rilassare se no non riuscite a lavorarlo quindi siamo pronti per fare la formatura finale quindi qua ad esempio potete dare ancora un 5 minuti di riposo è importante anche che mi raccomando cioè io ho fatto tutto questo processo a 25 gradi e quindi c'è stata una crescita molto tumultuosa della pasta ma se questo processo lo fate d'inverno magari ci vorrà più tempo quindi magari potete diciamo far lievitare la pasta un po' di più se ce n'era bisogno ok perché noi abbiamo seguito tutto un processo circa a 25 gradi quindi è stato un processo abbastanza veloce quindi le temperature sono molto molto indicative sulla crescita del lievito e poi calcolate che qui c'è un lievito che lavora da settimane tutti i giorni quindi un lievito che spinge ok giriamo quindi il nostro impasto e abbiamo in questo modo il nostro impasto allunghiamo leggermente la pasta andiamo a fare la formatura finale allunghiamo in questa maniera allora adesso allunghiamo ancora un po' ok prendiamo il lembo sotto e lo portiamo qui e chiudiamo come un calzone vedete lasciando il bordo bello spesso ok e tiriamo la pasta qui come un calzone poi prendiamo il lembo della pasta uno e due saldiamo in questo modo poi prendiamo questa parte qui sopra e chiudiamo qui e saldiamo e facciamo vedete come un cuscino no adesso pizzicate la pasta ai lati e chiudiamo così uno due e saldiamo uno due e saldiamo uno due e saldiamo vedete abbiamo proprio come un bel cuscinone adesso praticamente risvoltiamo la pasta e andiamo a chiudere in questo modo qua stringendo un po' ok vedete in questo modo qua l'impasto è fatto per chi non è pratico può girare semplicemente l'impasto e pizzicate chiudete con le mani per essere certi di fare una buona chiusura questo ve lo consiglio soprattutto se non siete pratici ok quindi pizzicate e chiudete poi mettete farina e semola abbondante e io dico paniamo il pane in questa farina in questa semola in questo modo qua così mi raccomando la parte cicatrizzata quindi chiusa va sempre sopra se ci sono delle bolle d'aria qui scoppiatele così domani non abbiamo un pane ok così domani non abbiamo un pane con difetti ok giriamo vediamo se ha bolle ecco vedete tipo questa qui potete scoppiarla per non avere difetti sul pane domani perché il pane adesso abbiamo due opzioni come sempre cioè lo mettiamo nel cestino in questo modo qua possiamo farlo lievitare nel cestino per diciamo un'ora due ore tra i 26 28 gradi finché sviluppa una mezza volta prima del duplico non proprio che arriva il duplico semplicemente che sviluppa un po' una mezza volta e poi possiamo girare ad andare in forno ma se volete un risultato molto più esplosivo un più strutturato un pane che mantiene meglio la forma e che si apre di più fate così prendete un suo coperchietto in questo modo qua coprite il nostro pannone aspettate 30 minuti di orologio e andiamo in frigorifero fino a domani mattina domani mattina ci vediamo e giriamo il pane e tagliamo e andiamo in forno se per caso è inverno se per caso la vostra pagnotta non era proprio ben lievitata aspettate anche un'ora un'ora e mezza tempo che riparte un po' la lievitazione e poi andate in frigo quindi io vi dico mezz'ora se arrivate a questo punto di lievitazione se le temperature sono come quelle di adesso se per caso è inverno e magari qualcosa è andato storto oppure il panone è un po' più piccolo qui magari aspettate un'ora un'ora e mezza tempo che riparte si gonfia un po' e poi lo mettete in frigo domani mattina ci vediamo che lo giriamo tagliamo quindi io aspetto 30 minuti di orologio e lo vado a mettere in frigo ci vediamo domani mattina che tagliamo inforniamo il nostro pane fatto a mano ci vediamo domani ok siamo pronti quindi per cuocere il pane ma dobbiamo capire come impostare il pane e diciamo cosa avviene durante la cottura e come cuocere il pane ai migliori modi perché rischiamo altrimenti di fare tutto il lavoro incredibile poi nel forno purtroppo che il pane deve dare si esprime al suo massimo possiamo penalizzare tutta la cottura allora vi spiegherò per questa tipologia di pane quello che ho capito è meglio soprattutto se utilizzate queste tipologie di forni se avete un forno da fornaio i classici forni a pietra dove schiacciate date vapore allora quelli sono forni proprio già indicati per la cottura del pane forno statico e all'inizio vapore 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 questa tipologia di forni che invece nascono per essere dei ventilati vi consiglio per questa tipologia di pane di usarlo statico adesso però vi spiego tutto allora il pane lo potete cuocere su pietra questa è una pietra rifrattaria la trovate su amazon anche come biscotto pietra rifrattaria oppure su teglia con tappetino microforato quindi potete scegliere io per praticità in questo corso opterò spesso sulla teglia per praticità anche per un discorso di sequenza di video un po' più pratica però voi potete cuocere il pane su pietra e quindi mettete il pane sulla pietra e lo cuocete un po' per simulare il pane del fornaio poi importante questa tipologia di forno in generalmente non tutti hanno la possibilità di dare vapore iniziale allora vi consiglio di prendere un contenitore vedete questo questo esempio è un classico contenitore per fare le pizze in casa no però va bene qualsiasi contenitore che avete in alluminio in ferro in acciaio l'importante è che tenga un dito d'acqua no ricordiamoci che il pane cresce se c'è vapore se voi non mettete vapore in camera il pane cresce un po' poi va in salda e non cresce più se volete quei bei pani che fanno la cresta che si aprono che c'è la spaccatura in mezzo vapore 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 e allora come facciamo noi con questa tipologia di forno praticamente fate in questo modo ascoltate bene quello che vi dico perché secondo me è uno dei migliori modi per questa tipologia di forno allora forno preriscaldato però lo preriscaldate ventilato se la cottura sarà tutta statica diciamo il preriscaldamento di questo forno vi consiglio ventilato perché si esprime al suo massimo quindi forno preriscaldato a 240 gradi aprite il forno ma mi raccomando preriscaldato vuol dire preriscaldato da mezz'ora non preriscaldato da 10 minuti anche se dopo 10 minuti ti segna 240 non è che tu inforni il pane tu aspetti almeno mezz'ora perché questi forni magari la temperatura è 240 ma la camera e tutti i lati bene il forno non è a 240 quindi forno preriscaldato da almeno 20 minuti mezz'ora 240 apri il forno troverai una camera secca e calda allora noi che la facciamo prendiamo un po' d'acqua e mettete un dito d'acqua su questo contenitore in questo modo qua così mettete un bel dito d'acqua in qualunque contenitore voi volete ovviamente mettendo l'acqua che cosa succede che è data una gran quantità di vapore quindi ci sarà vapore chiudete il forno è sempre a 240 aspettate ancora 5-10 minuti in modo tale che l'acqua inizia a evaporare si bagna un po' tutto il forno ci sia una gran quantità di umidità una volta che perché perché una grande quantità di umidità se voi infornate il pane a secco come vi ho detto dopo non sboccia più quindi ci vuole umidità non deve formare crosta il pane 240 ventilato quindi aprite il forno per cuocere il pane perché ormai sono passati dalle mezz'ora alla 40 minuti che il forno era bello caldo c'è già l'acqua quindi la camera a vapore potete mettere o la teglia come farò io generalmente per cuocere queste tipologie di pane oppure direttamente su pietra chiudete il forno passate il forno a statico statico mi raccomando statico 245 minuti statico e poi fate dai 200 ai 220 per 50 60 minuti dipende dalla tipologia di pane sempre statico a 200 220 quindi ripeto 240 ventilato lo preriscaldate con vapore e acqua dentro aprite il forno mettete il pane chiudete passate il forno a statico 245 minuti e poi e poi 220 210 200 dipende al tipo di forno per 50 60 minuti circa un'oretta hanno questi panni generalmente nel forno nel fornaio sui 200 220 gradi per 50 minuti pezzature da 7 750 o pezzature da chilo un'oretta 200 220 però in questi forni ricordatevi che quando questo forno dice che è a 220 statico probabilmente è a 200 ok il contrario è quando dice che ad esempio è a 200 ventilato se è un forno magari che spinge bene magari è qualcosa di più quindi bisogna sapere anche ogni forno cucina a modo suo quello che devi capire da questo video è forno preriscaldato a 240 gradi ok ti consiglio di preriscaldarlo ventilato metti l'acqua chiudi aspetti ancora 10 minuti metti dentro il pane passi a statico 245 245 minuti 220 200 210 220 per 50 60 minuti ma c'è un'altra cosa importante quest'acqua che abbiamo messo non devi lasciarla fino alla fine ma dopo circa mezz'ora devi toglierla quindi è importante togliere perché è vero che un bel po' d'acqua sarà evaporata e ce ne sarà poca ma quell'acqua lì la devi togliere dopo circa mezz'ora perché altrimenti il pane rimane anacquato quindi all'inizio tanto vapore e dopo mezz'ora circa levi questa vaschetta d'acqua e continui la cottura come ti ho spiegato se per caso a fine cottura il pane ancora non ha la crosta come la vuoi deve cuocere un po' di più ti consiglio di passarlo a 170 180 mettendo una pallina di stagnola qui e continui la cottura per farlo asciugare poi quello va a gusti più cotto meno cotto insomma a me piace ben cotto però quello va un po' a gusti quindi ricapitolando importante i concetti di questa micro lezione sono puoi cuocerle su pietra puoi cuocere su teglia 240 vapore 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 iniziale tanto mi raccomando vapore 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 iniziale vaschetta d'acqua chiudi passi a statico da 240 lo passi a 200 220 per 50 60 minuti ma dopo mezz'ora devi togliere quell'acqua la togli e continui la cottura ok ecco questo ti ho spiegato un po' tutto su come cuocere su questa tipologia di forni perché non sono nati per fare il pane proprio però con questi accorgimenti vapore 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 e temperature diciamo come ti ho insegnato vedrai che riuscirai a fare un buon pane quindi continuiamo la lezione eccoci qua è mattina e siamo pronti per infornare il nostro pane l'ho appena tolto dal frigorifero vedete bello sviluppato bello gonfio però con una bella struttura il bello del lievito madre che non ha perso la struttura quindi abbiamo un pronto forno quindi adesso andiamo a capovolgerlo in questo caso sulla teglia ma se no su pietra refrattaria mi raccomando forno caldo 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 andiamo quindi a girarlo su teglia e poi tagliamo ok andiamo a girare il nostro panone in questo caso è solo uno quindi lo mettiamo in mezzo mi raccomando che avete messo bene la farina e la semola se no qui fate fatica a staccarlo ok vedete come rimane bello strutturato questo è proprio il freddo ecco questo è il bello del freddo allora se volete dargli un tocco un po' più anche estetico potete mettere un leggero velo di farina leggero eh in questo modo qua andiamo quindi a fare un taglio quindi tagliamo qui così poi tenete un po' premuto in modo tale da andare bene dentro e poi tagliamo in questo modo e anche dietro quindi bene bene sotto basta perfetto a questo punto io metterei un po' di vapore 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 anche nella teglia e andiamo in forno a 240 gradi i primi 5 minuti poi 200 220 più 220 in questo caso fino diciamo a cottura ultimata circa 60 minuti quindi 245 minuti 220 terminando su 200 per 60 se c'è bisogno anche 70 minuti andiamo in forno eccoci qua il nostro pane è cotto guardate che bello eh e pensate che è stato fatto tutto a mano no? abbiamo visto tutto a mano senza impastatrice quindi un ottimo risultato vedete le pieghe di forza che danno struttura al pane lo fanno rimanere bello alto anche in cottura pur non avendolo cotto diciamo su pietra o su pietra rifrattaria anche in una teglia comunque viene bene vedete la spaccatura il peso mi raccomando quando cuocete un pane una volta cotto deve essere un pane leggero ecco se pesa tanto vuol dire che non è lievitato bene quindi il pane deve avere un calo peso e deve essere abbastanza leggero vedete è molto bello scrocchiarello quasi vorrei non tagliarlo perché è peccato perché è veramente bellissimo ma noi abbiamo già fatto la fotografia per voi allora molto importante questo pane una volta fatto potete farlo raffreddare vi dura 3-4 giorni massimo una settimana perché c'è l'ico lì lievito madre che produce acido lattico quindi è un pane che dura tanto se invece volete consumarlo magari lunghissimo periodo lo potete far raffreddare lo congelate una volta che è congelato quando vi serve lo tirate fuori lo mettete nel forno 150-180 gradi per un quarto d'ora e lo rigenerate quindi può durare anche in congelatore tranquillamente andiamo a tagliare con un coltello un po' bagnato sentite la crosta importante ecco un'altra cosa il pane quando voi lo cuocete se passati 60-70 minuti non è ancora cotto bene perché è un po' umido i dati ancora 10-15 minuti magari a 170-180 come ho fatto io se per caso una volta che è cotto magari lo alzate non è cotto bene sotto vi sembra un po' umidino abbassate a 170-180 e i dati 10-15 minuti magari mettendo una pallina di stagnola tra la bocca del forno e lo sportello in modo tale che esce l'umidità andiamo a vedere l'alveolatura allora qui siamo su un 70-72% d'acqua quindi tendenzialmente l'alveolatura è un'alveolatura media non apertissima non da pancare quindi è un'alveolatura media infatti se vedete tendenzialmente è un po' più aperta perché comunque siamo sul 72% d'acqua che non è proprio poco però vedete bellissimo forma il coniglietto vedete il coniglietto quello che ricercano un po' tutti il coniglietto ricordatevi che questo è fatto con lievito madre quindi poi con la tecnica frigo-forno avrà una mollica abbastanza umida ok una mollica abbastanza umida vi dura per un po' di giorni è un pane buono veramente buono per essere accompagnato a qualunque pasto perché è un pane bianco quindi un pane veramente che si presta tantissime preparazioni sentite proprio il lievito madre come sprigiona il suo gusto il suo profumo di lievito madre che è differente da quello del lievito di birra ovviamente quello con lievito di birra è proprio un altro prodotto se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti al canale clicca sulla campanellina per essere sempre aggiornato sui contenuti che pubblico e ricordati che nel link descrizione trovi il link per parlare con la mia assistenza iscriverti direttamente in academy abbiamo un academy online di pasticceria con vari videocorsi di pasticceria partendo dalle basi fino ai lievitati le torte classiche moderne la biscotteria le bilanciature e il nuovo corso del salato pasticceria salata e panificazione del pasticcere ad ogni modo in descrizione trovi tutto trovi anche le testimonianze dei nostri ormai migliaia di studenti da tutto il mondo che dire io spero di vederti in academy è tutto in descrizione contatta l'assistenza ma continuiamo con il nostro video perfetto dai quindi questa è l'alveolatura il nostro pane fatto a mano quindi con lievitazione naturale tecnica frigo forno ricordatevi che la tecnica frigo forno è importante anche perché gli dà struttura gli dà più sviluppo e fa anche delle croste un po' più vetrose ma comunque gentili calcolate che quando mettete vapore vapore la crosta diventa un po' più sottile però il freddo fa queste croste abbastanza spesse come piacciono a me e l'umidità sarà maggiore quando voi fate un processo produttivo tutto al caldo la mollica è un po' più asciutta quando voi fate lavorate col freddo quindi con i frigoriferi avete una mollica un po' più umida ok anche che vi dura un po' più nel tempo però deve piacere ovviamente magari va asciugato un pochettino di più in forno perfetto quindi la lezione sul nostro pane a levitazione naturale proprio di base per poterlo fare senza impastatrice è terminata e ci vediamo alla prossima lezione ciao